Il gioco e trova bene il compagno, qui devi tirare, e c'è il gioco, c'è il retropassaggio, ho visto il croce, no, e passa, ottimo intervento, di Lorenzo, la chiave del match è da ricercare nel possesso palla, stanno concedendo troppo da quel punto di vista, ha provato l'azione individuale, senza successo però, l'arbitro non ha dubbi, calcio di posizione, riceverà sicuramente un cartellino, vediamo un po', Rosso, nulla da ridere, è stato un intervento imperdonabile, e ora sono costretti a giocare con due uomini in meno, davvero brutta la situazione per loro. C'è anche qualcosa in differenza, di cui piacchierare, no, del popò, qualcosa che voi possiamo utilizzare, recupera nel possesso del pallone. C'è pure i cartelli, c'è pure questo, c'è la giusta, pure questo, pure questo. Pallone dentro. Occasione da un'idea, ce l'hanno fatta! Non ho visto quanto cazzo va a ingridare la gente a giocare i posti di giochi di merda con la mente, quanto cazzo va a ingridire così, madonna mente a giocare di merda con i soldi. Un gol davvero da Brim. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso i numeri di chi sale e di chi scende. E si riparte con il nuovo gol di vantaggio. Ora, gettare al vento questo vantaggio sarebbe imperdonabile. Cristiano Ronaldo decide di sfruttare la pace. L'affanculo, l'affanculo. L'affanculo, nessun dubbio. L'arbitro si avvicina a grandi passi, mani in tasca a cercare il cartellino. È rosso diretto. La doccia lo aspetta. E sicuramente anche la ramanzina del mister. Ma tu ti resti il tuo rosso diretto con qualcuno. Non è mai stato... Quando cazzo? Qui cazzo che c'è il carai di Shishimaru, Non c'è un altro, voglio un altro. Non c'è un altro, voglio un altro. Ma l'opera completa con una mistiposa madre di merda, poco. Però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Prova a giocarla in profondità. Prova a darla profonda nello spazio. Si fa trovare sulla traiettoria. Unорuzione rischiosa. Sì, orgoglio un altro. Che dammeno un altro. Pato male, lo voglio. Cacciatelo. Abbiamo scritto. Guarda, guarda. Punta competenza. si arrabbia, questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare il frosinone dovrà concludere la partita contando solo su sette giocatori ed ecco che viene servito sulla faccia la mette sul piano fisico e riconquista la palla cerca una soluzione con la palla lunga ci prova con un pallone profondo qui può partire il contropiede supera il diretto avversario c'è spazio a tentare la conclusione ma che cazzo ma la è una grande occasione sprecata qui ha avuto troppa fretta si è fatto prendere dall'attenzione probabilmente sega di merda ultimo traccio traccio vorrei a te per nonno costringe l'avversario al fallo non c'è senso non c'è senso non puoi far niente a credere questi che in Gesù Christi porco Dio con la difficoltà non puoi non lo puoi far ma porco Dio che non me ne cacci tutti io non c'è da vedere eh io non lo voglio finire la vostra partita di merda se questo gioco va così stimo Porco Dio, perché a me quando 3.000 falli non mi fate un cazzo E voi invece il primo fallo di merda, porco Dio, rosso diretto Che cazzo è? Che è?